Il corso La gestione delle risorse umane offre strumenti pratici per valorizzare il capitale umano dell'azienda, consapevoli che le persone sono la vera forza motrice dell'organizzazione. Grazie a questo percorso formativo, i partecipanti acquisiranno competenze in leadership e motivazione, elementi chiave per stimolare il potenziale dei collaboratori. Inoltre, il corso fornisce tecniche per una gestione efficace della delega e propone soluzioni per un eventuale decentramento organizzativo, rendendo il processo di gestione del personale più efficiente e strategico. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo. Sulle tue esigenze, entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.